Ha preso ufficialmente ieri la quarta edizione del Cammino Letterario, un evento unico nel suo genere ideato dalla giovane editore di Categnano, Alessio Mosciulli. Quest'anno, tragitto ancora più impegnativo e ambizioso, visto che si andrà oltre i confini regionali per un vero e proprio giro d'Italia, con l'unico scopo di promuovere la lettura e valorizzare i libri di qualità. A partenza da Categnano e attraverso una lunga serie di tappe in 21 giorni saranno toccate molte località da nord a sud. Eh sì, questa volta l'abbiamo combinata grossa, ma l'impegno è sempre quello che abbiamo messo nei libri, nell'evoluzione della casa editrice, quindi ci piace osare ogni volta di più, non so l'anno prossimo che cosa faremo, però intanto pensiamo al quarto Cammino Letterario che parte oggi. Abbiamo stretto rapporti anche con altri editori di altre parti d'Italia perché ci piace crescere. Questo scambio non serve tra editori, tra libri, tra autori, non ci deve essere concorrenza, ma ci deve essere unione, ci deve essere condivisione. Io lo dico sempre, farsi la guerra non serve a niente, serve crescere, serve scambiarsi le idee e quindi collaborare. Quindi la Masciulli Edizione è aperta a tutti, a chiunque vuole pubblicare, ma anche se è pubblicato con un altro editore, noi pubblicizziamo anche quelli. A salutare la partenza di Alessio Masciulli e del suo staff è la vice sindaco di Categnano, Annalisa Piermattei. Porta il nome del nostro paese un po' ovunque, anche grazie al Cammino Letterario Categnano può essere conosciuta, perché poi la curiosità, qualcuno chiede da dove viene l'editore. Alessio poi ama molto parlare, anche se in realtà si definisce timido, ma non lo è affatto. Ma le piace la definizione dell'editore con le scarpe da tennis? Sì, mi piace tanto perché è quello che io sono, l'editore con le scarpe da tennis rosse, perché noi siamo sempre in movimento, non siamo mai fermi e uniamo la camminata alla letteratura. Grazie. 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 Grazie a tutti.